Il sindaco Matteo Ricci lancia l'allarme ma a stretto giro di posta viene sconfessato dal segretario provinciale del SIULP Marco Lanzi. Secondo Ricci infatti da oggi 41 profughi sarebbero stati messi per strada per gli effetti del decreto sicurezza, il cosiddetto decreto Salvini che tra gli altri provvedimenti non riconosce più ai semplici richiedenti asilo il diritto all'accoglienza negli sparar limitandolo ai minori non accompagnati e a chi ha già ricevuto la protezione internazionale. Da qui l'allarme è lanciato dallo stesso Ricci. Stanno arrivando i primi numeri e proprio oggi ho avuto dei numeri di una delle cooperative che gestisce la fase dell'accoglienza per cui noi rischiamo dalla prossima settimana di avere circa 50 persone per strada e queste 50 persone dove andranno? Andranno nei parchi, cercheranno di andare a dormire dove possono e presumibilmente diventeranno strumento di illegalità, comunque si avvicineranno a una fascia di illegalità e questo è l'effetto del decreto sicurezza che in verità produce insicurezza perché proprio nel momento in cui gli sbarchi sono calati, da un anno e mezzo ormai gli arrivi sono calati, questo era il momento in cui si doveva investire sull'integrazione, invece tagliare sull'integrazione, tagliare sugli sprar, tagliare sull'insegnamento degli italiani, tagliare sul volontariato significa mettere per strada tante persone che non hanno diritti, che non torneranno molte di queste a casa, che non verranno espulse come veniva detto perché per rimpatriarle non capisco come verranno rimpatriate perché per rimpatriare non solo costa ma devi avere accordi con i paesi d'origine, quindi noi rischiamo di ritrovarci le città italiane con molti più problemi rispetto al passato. Come spiega Marco Lanzi però, l'allarme di Ricci rispetto al caso specifico sarebbe infondato perché i profughi che da oggi non hanno più diritto all'assistenza hanno ricevuto una precisa sentenza che nulla a che vedere con il decreto sicurezza. Credo che questa sia stata soprattutto una strumentalizzazione politica. Per di più ho letto che nel suo allarme il sindaco Ricci ha dato la colpa di questa situazione al decreto Salvini, ma il decreto Salvini non c'entra assolutamente niente. Quello che è successo, quello che succede da anni, questa la prassi, è stato fatto in esecuzione di un decreto legislativo approvato dal governo Renzi nell'estate 2015. Altrimenti cosa succederebbe? Che nel caso sia la Commissione che il Tribunale diano una risposta negativa alle richieste di protezione internazionale, cosa facciamo? Dobbiamo anche, nonostante questo parere negativo, accogliere, continuare a mantenere e accogliere pagando più di 30 euro al giorno ogni migrante? Se passasse questo messaggio sarebbe allora veramente caos, ma non solo a Pesero, ma penso tutta Italia.